Si trattano delle prime misure che mettiamo in campo nell'ambito della nuova programmazione europea 2021-2027. La prima misura riguarda l'ITS con oltre 13 milioni. Vogliamo dare impulso a questa scuola superiore affinché si possano avere nuovi profili da inserire nel mondo del lavoro. Come sapete l'ITS è una realtà importante, ce ne sono sei in Abruzzo, in diversi settori. L'ultimo è quello che è sorto a Mociano. Noi vogliamo creare profili che possono essere inseriti nel mondo del lavoro in maniera più agevole. Oltre 13 milioni da oggi si possono fare domande, quindi sicuramente è molto importante affinché si possa andare incontro all'esigenza di tante persone. L'altra misura che mettiamo in campo è di oltre 3 milioni, riguarda i servizi per l'educazione e l'infanzia 0-6, ovvero dalla nascita fino a 6 anni. Vogliamo migliorare il servizio, vogliamo adeguarlo alle nuove esigenze, ma soprattutto vogliamo abbassare le rette alle famiglie, perché le famiglie non riescono ad avere sostegno economico e quindi con questa misura cercheremo di abbassare le rette, perché ormai i genitori lavorano entrambi. E' necessaria questo tipo di scuola, quella dell'infanzia, gli assi di nido, e noi con questa misura che è rivolta agli endi d'ambiti della regione, quindi questo avviso è rivolto a questi soggetti, vogliamo migliorare il servizio, ma soprattutto abbassare le rette, perché il caro vita la conosciamo e quindi sicuramente vogliamo dare un segnale importante. Voglio ricordare che queste misure rientrano nella programmazione generale, che ha una dote finanziaria di oltre 400 milioni. Nei prossimi giorni saremo pronti anche con altri bandi, quindi sicuramente sono felice e ringrazio il Dipartimento per aver dato un'accelerazione alla messa in campo di queste misure.